Il corso di formazione della provincia 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 che sei questa maniera di sposo uguale, non importa che tu mi dici niente, che conta voglio camminare se mattina, alla strada, ascolta, pago io tutto, anche la casa, i bestefini, avellini, tutto, ascolta, ti prometto, tutte le mattine ti vengo a trovarti, vuoi? Tutte le mattine ti aspetto qua, tutte, appena a fondo da te ti abbracirò, ci viviamo allora, ok? Tutte le mattine, ciao, ciao Luca, grazie a te, bravo, ciao, ciao. Grazie a tutti. Come si vengi un gato, interesante Grazie.